Sindaco, giornata della memoria, Ventimiglia ricorda il sacrificio anche di Ettore e Marco Bassi che hanno salvato anche degli ebrei? Assolutamente sì, anche Ventimiglia ha pagato un prezzo in termini di vite umane di questa tragedia, una tragedia che va ricordata perché gli errori del passato aiutano a comprendere quali sono le azioni giuste per il futuro. Quindi questa amministrazione continua nella tradizione di celebrare il giorno della memoria, questa piazza insieme alla giunta e consiglieri comunali che si sono presentati, alla popolazione, alle associazioni volontarie e alle forze dell'ordine che mi fa piacere essere tutte qui rappresentate. Un momento di ricordo, un momento di riflessione, abbiamo organizzato o patrocinato comunque quattro eventi per il giorno della memoria in città e quindi siamo presenti con l'amministrazione comunale in questa data così significativa per la storia del mondo. Grazie a tutti!